La cosa che un po' mi sconvolge da sempre è che in questo paese, quando tu proponi qualcosa di nuovo, quando tu proponi una innovazione, la reazione della gente, la reazione a livello generale non è, ah bene, guardiamo, sperimentiamo, verifichiamo se questo secondo me funziona o meno, no, è un pregiudizio di repulsione nei confronti di qualsiasi novità, c'è una novità, no, non va bene, non la facciamo, è meglio quello che c'era prima, ma come? Ma come si potrà andare avanti in questo paese se si ha costantemente questo atteggiamento di negazione nei confronti di ogni innovazione, sia tecnologica sia di altro genere.